SIGNA E LA STRASSIGNA Le colline per gli itinerari naturalistici, l'offerta culturale con i musei e la figura internazionale di Enrico Caruso e ancora l'enogastronomia, di sicuro una delle leve più grandi di viaggio. Insomma, dopo il protocollo tra i due comuni siglato inizio gennaio, ora il cammino è proseguito con un'iniziativa tenuta si assegna alla presenza dell'assessore regionale Stefano Cioaffo, nel corso della quale è stato presentato anche il nuovo materiale promozionale della zona. Il lavoro degli ambiti, il lavoro che anche questa sera si avvia è sostanzialmente questo, cercare di raccontarla tutta la Toscana, di raccontarne le sue storie, le sue tradizioni, i popoli che compongono la storia di questa regione. Signa e la strassigna insieme nell'ambito della città metropolitana sono una duplice opportunità. Da una parte il racconto di queste comunità e di queste storie, di queste tradizioni millenarie, ma al tempo stesso servono perché Firenze ha una polarità, una grande attrattività, ha una pressione turistica enorme e le prime soluzioni al problema di Firenze è a portata di mano, è qua, sono questi luoghi. La fascia fiorentina, che stasera rappresentiamo in comunicazione che con freschezza e con immagini sicuramente accattivante, stimola a guardare oltre, a alzare lo sguardo dal quadrilatero del centro di Firenze e scoprire che intorno Firenze quella cultura, quella storia, quella tradizione sono a portata di mano. Soddisfatto il sindaco di Signa Giampiero Fossi che ha ribadito anche come i due comuni debbano fare levo sulla vicinanza con Firenze che pone le destinazioni in una posizione privilegiata e strategica per l'attrazione di nuovi turisti. L'iniziativa di stasera fa seguito a un protocollo importante fra i due comuni che qualcuno addirittura ha interpretato come prove di fusione. In realtà a livello culturale stiamo lavorando per offrire ai nostri cittadini e ai turisti quanto di meglio ci può essere, soprattutto la conoscenza di luoghi che sono parte essenziale della grande Firenze. I nostri territori da soli sono troppo piccoli, quindi metterli insieme significa avere la possibilità di essere un corpo che può essere appunto a quel momento attrattivo, perché noi abbiamo presenze importanti sui nostri territori ma queste presenze non riescano ad essere attratte anche per mezza giornata sui nostri territori. Mettendoli insieme le proposte potrebbe essere un'iniziativa che appunto nell'ambito degli ambiti, e un gioco di parole, ecco l'ambito, la strasigna-signa, quindi rafforzare questa sinergia potrebbe essere un elemento vincente. Lo crediamo. Insomma le prospettive non mancano, i due territori sono anche ben collegati alla città di Firenze grazie alle linee ferroviarie e gli altri mezzi pubblici su gomma. Adesso si tratta di mettere a sistema un'offerta completa che investa anche sulla ricerca dei viaggiatori di itinerari legati alla lentezza, al cicloturismo, al trekking e oggi sempre di più anche all'arte ed ai musei. Alla strasigna ad esempio lavorarono Leon Battista Alberti e Brunelleschi. Si tratta dunque di comunicare di più e meglio per stimolare nuovi interessi verso le zone limitrofe al capologo toscano affinché davvero prenda forma la grande Firenze anche dal punto di vista turistico.